ciao a tutti ragazzi ecco qua noi abbiamo KIKO83 Max 85, 84 livello 30 Call of Duty Black Ops 2 modalità 2 giocatori livello 30 siamo completi di bibite, siamo nel piano di sopra devo fare un video veloce, il mio amico è lì che traffica vai Max continua con le bombette, dai ho un video veloce veloce faccio giusto il nostro piccolo ricordino ricordarci che abbiamo fatto un bel eccolo ciao ragazzi ci sentiamo alla prossima